Sì, siamo con Deborah qua, c'è Ale Milan, Alino, c'è Giovanna Luini, parliamo di resilienza e abbiamo parlato anche di un bel progetto di un'associazione culturale che ruota intorno proprio a questa parola che va spiegata, comunicata ma soprattutto portata e insegnata anche Ale. Diffusa, bravo non mi veniva la parola, allora parlate come mangiate ci scrive un ascoltatore a ragione, allora resilienza è, lo facciamo spiegare a Giovanna Luini che oltre a essere un dutur è anche una scrittrice, non è sinonimo di resistenza, non è mi piego ma non mi spezzo, è quella flessibilità, quel piacere di coltivare, quel coraggio di andare avanti Nonostante le difficoltà, nonostante la paura, sappiamo che possiamo rialzarci o almeno cerchiamo di farlo. Nell'approccio orientale si dice abbandonarsi al flusso della vita che non è rassegnarsi, è prendere coscienza di quello che succede e accettare, l'accettazione è un concetto che è quasi oscuro oggi In realtà è accettare quello che accade non in modo passivo, non in modo rassegnato perché accettazione non è rassegnazione però anche senza lottare, quando si parla di resistenza si dà sempre l'idea di qualcosa di rigido, di duro Si dà l'idea della lotta, ecco non è una guerra, non è una lotta, è però una reazione Ecco la capacità di diventare concavi e convessi a seconda della situazione Mi ha spiegato che in fisica è il contrario del vetro che si frange con una botta, ma è il pneumatico o lo pneumatico non l'ho mai capito Che si modifica Adesso ti senti le tue con i elello Paolo da Bergamo Buongiorno Poi vi volevo leggere anche il messaggio di Davide sul tema del lavoro, ha una storia molto bella Abbiamo Paolo e abbiamo Giancarlo, Paolo buongiorno da Bergamo, benvenuto Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione Volevo portare un po' la mia esperienza sulla resilienza Nel senso che un po' così distinto nella mia vita ho sempre cercato di decidere di soffrire Piuttosto che esserci costretto D'altra parte sappiamo che le difficoltà ci sono E quindi non è che possiamo evitarle La capacità di superarle spesso è anche questione di volontà di affrontarle Per esempio ci sono cose, lì c'è Alino, le malattie, certi drammi Non si possono né prevedere né evitare Però tante cose si possono per esempio anticipare Il problema di lavoro, uno sa che uno lavora in un'azienda che è in difficoltà Potrebbe cominciare a essere resiliente in anticipo Cominciare a guardarsi in giro, non sperare che qualcuno gli sistemi un problema E devo dire che la capacità di essere resiliente poi diventa un piacere Ed è quello che ho un po' scoperto a strada facendo Io devo dire che poi l'ho scoperto in realtà in maniera più precisa Quando ho cominciato a correre, a fare l'ultramaratone E quando cominci a non avere più gambe, non avere più niente Non da spendere E cominci ad andare avanti lo stesso, diventi resiliente E trovi il piacere dell'affrontare la sofferenza Di fare qualcosa che ti sembra impossibile Infatti è molto raccontata anche dagli sportivi questa sensazione Che poi ci mette un po' alla prova e descrive bene questo passaggio Sì, farò un commento come dici tu, un po' da Dutour In realtà l'attività fisica fatta così come ci sta raccontando lui Aumenta il livello di serotonina anche Quindi aumenta e migliora l'umore Non è solo quello ovviamente Lui sta dando una testimonianza Però c'è sempre un po' di chimica Nelle cose che pensiamo anche che arrivano dal cuore e dal cervello Paolo, grazie per essere intervenuto Si ricorda, faccia un saltino nell'associazione di Wondi Sì, il sito è semplice WondiSonoio.org Grazie a Paolo Avevamo un altro ascoltatore che nel frattempo è caduto Questo ci dà modo di leggere alcuni messaggi Soprattutto anche il messaggio che volevi leggere del nostro amico che ha perso il lavoro Allora, va bene, naturalmente in molti danno anche la loro interpretazione Sulla questione della maggiore resilienza, resistenza Capacità anche di sopportazione e gestione dei problemi da parte delle donne Ma c'è il messaggio di Davide che ci dice Trasmissione di oggi, di cuore e denari, mi tocca da vicino Sono un impiegato, lavoro da 13 anni con un'impresa Nella quale, per motivi legati ad una separazione fra il titolare e la moglie Tutti i dipendenti stanno rischiando il posto di lavoro Vista la carenza di lavoro, in questi momenti io lo vivo come un macigno per la mia vita E questo effettivamente ci rappresenta molto la modalità con cui molte persone Vivono i problemi, a volte proprio come dei veri macigni da portare sopra le proprie spalle È una rappresentazione molto efficace, il macigno, il peso, ciò che pensiamo di non sapere affrontare Cioè addirittura chi cammina con questa modalità e lo vedi proprio fisicamente che ha la postura Sì, ma di solito in effetti è così, la postura cambia sempre almeno un pochino Perché quel macigno è sulle spalle o ce l'abbiamo in braccio o ce l'abbiamo sulla testa Ognuno di noi lo raffigura Quando conosciamo bene una persona e siamo in sintonia con lei Riusciamo sicuramente a capire da come si muove Ancora prima di guardarle in faccia che momento sta passando Ed è il momento di dare la linea a Don Andrea Che ci chiama della provincia di... Buongiorno Don Andrea Non belevamo l'ora di conoscerla Eccola qua, grazie, che piacere Grazie a voi perché il tema di oggi è straordinario Io l'ho toccato con mano Io ho un'associazione che si chiama EOS Che nasce da un bambino, Leonardo Che è morto due anni fa, ha dieci anni Ma questo bambino ha lottato ogni giorno della sua vita E sulla sua frase a un certo punto ha registrato un video Lui in macchina col papà e la mamma È stato ricoverato a Bergamo, a Roma E poi ultimamente gli ultimi quattro anni a Columbus negli Stati Uniti E lui dice una cosa straordinaria E dice io sono felice Nonostante tutto il mio calvario Lui aveva un'ileostomia Aveva un pacemaker allo stomaco Martoriato Non poteva nutrirsi Nel senso che il nutrimento non lo faceva crescere Eppure lui dice io sono felice E chiedo a tutti voi di resistere Bellissima questa cosa Chiedo a tutti voi di resistere Da tutto nasce la mia associazione E adesso stiamo costruendo una casa Che si chiamerà la casa di Deo Proprio per accogliere i genitori dei bambini ricoverati in ospedale Per dire guardate che insieme possiamo sconfiggere qualsiasi fatica Qualsiasi malattia Questo per me è quello che state dicendo È straordinario Grazie Don Andrea E lei ha detto anche una cosa che Wondi ripete sempre Che è questa parolina Insieme Che fa la differenza E sì ma il concetto di Wondi sono io è proprio quello Cioè tutti lo siamo E quindi tutti possiamo Possiamo unirci Beh è una storia straordinaria Questa di resilienza proprio Che ci ha raccontato Il nostro amico Don Andrea A me piace chiamarle ancora preti Perché si dice sacerdote Preti Bellissimo Le piace più prete o sacerdote? Don Andrea No Don Andrea è sufficiente Don Andrea è sufficiente Non le piace l'etichetta Allora Sì Questa casa Ha una cosa specifica La costruiremo attorno a un luogo di condivisione Sono appartamenti singoli Ma sono camere Che hanno un ambiente di condivisione Certo E questo è la cosa straordinaria Grazie davvero di cuore per quello che state dicendo Grazie a lei Don Andrea Buona giornata Buona giornata a lei Allora noi ormai siamo arrivati Quasi alla scuola di risparmio Possiamo ricavarci ancora Un paio di minuti Per fare due considerazioni A conclusione di questa puntata Ma naturalmente seguiremo L'associazione di Wondi Passo passo Anche il premio letterario Giovanna Nella duplice Nella triplice veste Esatto Ogni volta ne ho sentito Don Andrea Adesso parliamo di triplice Sì perché amica Dottore Scrittrice Ma sai Stavo pensando che La vita è così speciale Varia Così strana Noi ci mettiamo in testa Che la vita debba essere Lunga un tot Bella un tot Libera un tot Da problemi E allora quella è la vita Che merita di essere vissuta Di solito questo si dice da sani Tra l'altro Da sani e felici Perché Poi però Insomma Le persone che si rendono conto Che magari non è proprio così Le persone che affrontano Una difficoltà Di qualunque genere Una difficoltà grossa A volte notano Dettagli Che per noi sono piccoli Ma che sono il mondo Sono la luce E la luce secondo me Sta anche In quei momenti Nei quali il dolore si ferma un attimo Ci rendiamo conto dell'amore altrui Ci rendiamo conto del nostro amore Oppure facciamo una cosa che ci piace Partecipiamo per esempio Al concorso letterario Che ha proposto Alessandro Con la sua associazione Ora faccio questo esempio Ma in realtà questi sono i momenti della vita Questi sono la resilienza Perché se continuiamo a pensare Oddio domani Forse Sarà ancora peggio di oggi Forse non ci sarò Forse non ci sarà la persona che amo Ok Forse saremo anche felici invece Noi siamo qui adesso E queste persone Leonardo compreso Questo bambino Penso al mio amico Andrea Che è un fantastico ragazzo Con la sindrome di Down Che quando suo padre ha compiuto gli anni Ha detto Voglio dire a tutti voi Che io sono felice Perché ho tutto quello che voglio Ho l'amore Ho la famiglia E mi diverto a fare quello che mi piace Sapete quanto mi ha fatto riflettere Andrea Quando ha detto questo Non dobbiamo per forza essere felici sempre Ma almeno notare Che siamo vivi E che esistono dettagli minuscoli Che amplificati diventano la luce Una volta mia sorella parlando di tutt'altro Mi ha detto C'è tutto un mondo lì fuori Ogni tanto questa frase Ce la ripetiamo Nei momenti un po' complessi Però anche questo serve Secondo me Ale A me è colpito l'ascoltatore Prima ha detto Per una parte della vita Ho deciso di soffrire Decidere di soffrire Ecco uno Può anche partire da questo tipo di scelta Uno può decidere di soffrire Di fronte a un grande dolore Oppure può decidere di Attraversarlo Ecco uso ancora questa immagine Mi ripeto Io ho scelto questa seconda via Mi sembra quella che fa meglio a me stesso Anche perché è inutile negarlo E credo che sia una via migliore per tutti Poi uno ha la presunzione di voler cambiare il mondo E non lo cambieremo noi Però Certo di noi può dare un piccolo contributo Che può essere determinante Chissà magari Per qualcuno che ci sta ascoltando A proposito di ascolto Vi segnalo che sulla pagina di Cuore Denari Abbiamo un'intervista di Fiorella Belpoggi Che è direttrice dell'Istituto Ramazzini di Bologna Riguardo al rapporto tra Telefoni cellulari e tumore al cervello Che cosa dice la ricerca Che cosa dicono gli studi Eventuali evidenze Ma soprattutto un uso intelligente della tecnologia Se volete andare ad ascoltarla Per un ulteriore approfondimento È bella e pronta Lì per voi Intanto Grazie a Giovanna Grazie a Ale Grazie a voi Ale porta un bacino per noi Ad Angelica e Mattia Per favore Grazie Bene Allora c'è da essere resilienti Per passare all'argomento Della seconda parte Della trasmissione Ma naturalmente Noi abbiamo questo impegno Con gli ascoltatori Che sono molto interessati Anche ai temi finanziari Perché Tutto quello che ci capita Intorno Lo diciamo spesso Non va trascurato Anche se magari Così un po' L'idea è che le elezioni francesi Non ci appassionino particolarmente Poi però Innervosiscono Le borse E di conseguenza Magari incidono Sull'andamento Dei nostri risparmi Accantonati Magari in qualche Prodotto L'investimento Che punta Sul mercato europeo Piuttosto che altri Mercati E allora Anche di queste vicende Un pochino lontane da noi Ci dobbiamo occupare E siccome tutti gli occhi Sono puntati Sulle elezioni francesi A maggior ragione Dopo il nuovo attacco Terroristico di ieri sera Ecco il motivo Per cui oggi Nel nostro investire Informati Che è stato traslato Eccezionalmente Di venerdì Ci occupiamo anche Del tema politico Che è stato il fattore Che ha condizionato Molto l'andamento Dei mercati Lo abbiamo rimarcato Ripetutamente In particolare Lo scorso anno In concomitanza Con il referendum inglese Delle elezioni americane Nel weekend Come ribadiamo Tocca alla Francia Chiamata alle urne Per il primo turno Delle presidenziali Chiedo subito Ai nostri ascoltatori Vi preoccupano Le questioni politiche Europee Temete che in qualche maniera Possano condizionare Anche le vostre Personali scelte Di risparmio E di investimento L'Europa In questo quadro politico Anche questo è un tema Interessante Che è piuttosto complesso Rimane comunque Una buona area Sulla quale investire Perché Chissà che cosa ne pensa L'industria Del risparmio E sono proprio questi E sono tanti Gli argomenti Che affrontiamo Nella nostra rubrica Settimanale Investire informati Ben ritrovato Lorenzo Alfieri Country Head Per l'Italia Di JP Morgan Asset Management Ben ritrovato Buongiorno 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 a tutti E naturalmente Come sempre Ribadiamo Il numero verde Che può essere utilizzato Dei nostri ascoltatori 800 24 00 24 Lo so Te lo ricordi Prima stavo facendo caso Che pur non avendolo Tanto ricordato Tantissimo richiamato Gli ascoltatori Ad intervenire Poi quando il tema Tocca Hai voglia Come partecipano Spontaneamente I nostri Le ringraziamo Infatti Assolutamente Allora Come vi anticipavo Abbondantemente Poco fa Il tema Da cui occorre Partire oggi È necessariamente Questo Non ho preso La Marsigliese Stavolta Abbiamo cambiato Un po' Colonna sonora Dai Per rendere Il tema Lorenzo Alfieri Un po' più Divertente E accattivante No Le toccano Oggi Gli exit poll Che ne dice Ne vogliamo fare Un po' di pronostici Politici O è meglio Di no No ma Effettivamente Anche all'interno Delle vostre Riunioni Le fate Queste simulazioni Di carattere politico Che poi hanno Un impatto Di natura finanziaria O poi Tutto sommato I vostri scenari Li costruite In maniera diversa Rispetto a questo Appuntamento Di domenica Nei confronti Del quale c'è Questa attesa Davvero febbrile Come vi state preparando Cosa state pensando Cosa state facendo Ma innanzitutto Diciamo che Di solito Si lavora appunto Su scenari Probabilistici Cioè si Individuano Due o tre Quattro scenari Ad ognuno di questo scenario Si dà una probabilità Maggiore o minore Questo è il modo Con cui si impostano Appunto Qua avendo quattro candidati Quattro scenari possibili Sono stati già Disegnati Nel caso specifico Diciamo che Questa prima tornata Elettorale Che comunque Sta assumendo Ovviamente Una certa Rilevanza Di fatto Non sposta Più di tanto L'ago della bilancia Perché non è questa La tornata Importante Ma sarà Ovviamente La fase successiva Del ballottaggio finale Che quindi Definirà Chi sarà Il futuro Presidente Presidente Francese Quindi È una fase Interlocutoria Sicuramente Se dovessimo Avere Uno Uscita appunto Da questa prima tornata Un confronto Tra Ovviamente Le Pen E Mcleon Ovviamente È lo scenario Più Incerto Ma Sembra probabile Invece Che ci siano Eventualmente Tra Macron E Le Pen Le due Diciamo Le due figure Che dovrebbero Prevalere In questa prima fase Non dimentichiamo Ci concludo Che Però La Francia È Una repubblica Semi presidenziale Quindi Vuol dire Che Comunque Anche Nello scenario Di un'elezione Attualmente Veramente Molto improbabile Di Le Pen Le Pen Dovrebbe Confrontarsi Con Un governo Socialista E quindi Discende Da questo scenario Da questo quadro Un Una Prospettiva Di Le Pen Che sarebbe Comunque Molto Imbrigliata E non Sarebbe Libera Come Invece Trump Come Come Trump Invece Negli Stati Uniti Che Negli Stati Uniti Trump Abbiamo Una repubblica Presidenziale Nel vero senso Della parola E quindi Gli scenari Sono ovviamente Diversi Anche se Tutto sommato Anche Nelle sue Iniziative Più forti Che voleva Prendere Il congresso In qualche maniera Anche Tutta quella Parte Che è dalla sua parte Politica Non sempre Gli ha concesso Completamente Mano libera Quindi Anche questo Va considerato Detto ciò Torniamo appunto Alla Francia Nella giornata In cui Nicoletta Non c'era Avevo già fatto Un piccolo punto Con un altro Con un collega Di Lorenzo Per farci raccontare L'attesa Dell'istino francese Rispetto a questo Appuntamento Anche oggi Dicevo Molto nervoso Parigi Sta perdendo Quasi Un punto Percentuale E però Abbiamo fatto Un bilancio Degli ultimi mesi E la borsa francese Non se la passa Affatto male E addirittura Sembra Non è A parte oggi Che è più nervosa Forse per l'attentato Di ieri sera Non sembra temere Nessuno dei risultati Politici possibili Nell'ultimo anno Il bilancio Per il principale Indice Che è il Carante È positivo Per circa Il 12% È sui massimi Dall'estate Del 2015 Più nervoso È stato invece Il mercato Obbligazionario Anche in Francia Naturalmente Si guarda Il rendimento Del titolo Di stato francese Con scadenza decennale Che si chiama OAT E negli ultimi tempi Il rendimento È andato sopra L'1% Che naturalmente Per una scadenza 10 anni È molto poco Però C'è stata una nuova fiammata Soprattutto c'è stato Un nuovo allargamento Dello spread Con il Bunde tedesco Che cosa ci fotografa Questo Alfieri Ma innanzitutto Per quanto riguarda La differenza Tra titoli di stato Tedeschi E francesi Ricordiamo Che questo spread In termini di rendimento Si è ampliato Generalmente Per quello Che viene definita La flight equality Cioè la corsa A comprare Il titolo Meno rischioso In questo caso Il Bund A sfavore Quindi l'allargamento C'è stato Perché è sceso di prezzo Il Bund tedesco Più perché È andato al contrario Prevalentemente Questo il movimento Dall'altra parte Correttamente Come ha evidenziato Le borse europee In generale Francese Ma anche quella tedesca E anche soprattutto Quella italiana Sono andate molto bene Perché? Perché negli ultimi mesi C'è stata Una rivisitazione Della situazione Economica europea Che ha sorpreso In termini positivi Con i suoi dati Di crescita In alcuni casi Imprevisti E quindi Gli investitori Hanno in parte Abbandonato L'investimento Principe Nell'azionario Che è stato Quello americano Che ha reso Molto bene E si guarda Ovviamente Con maggiore attenzione A quelle aree Internazionali Sui mercati azionari Che hanno Per così dire Sono rimaste indietro Quindi Europa in testa Ma anche Giappone E anche Mercati emergenti Quindi In questa fase Lo scenario Politico Assume un rilievo Di gran lunga Inferiore Non è Quindi Elemento Predominante Tanto da far Scappare Gli investitori Tutt'altro Gli investitori In questo momento Guardano A uno scenario Come viene definito Geopolitico Tutto sommato Abbastanza tranquillo Dopo le elezioni Olandesi Per cui Non c'è Una Aspettativa Reale O realistica Di Brexit Al momento Brexit ovviamente Intendo In questo caso Per la Francia O per altri paesi La Frexit E quindi Gli investitori Sono più Tranquilli E rilassati E investono Ovviamente Per esempio In Europa Che è un mercato Che è restato Nettamente indietro Concludo dicendo Che i tassi Di crescita Degli utili Delle aziende Europee Sono superiori A quelle previste Per le aziende Americani Il tema europeo Ci interessa molto Quindi guardi Ci facciamo un bel Approfondimento Dopo aver raccontato Cosa succede Stamattina in borsa Qualche anticipazione L'ho data Andremo adesso Ai dettagli Di piazza affari Vedo già Saipio Che sta andando Molto bene Ha diffuso i dati Questa mattina Il petrolio è tornato A salire L'abbiamo visto Anche dai prezzi Della benzina Del weekend Del lungo ponte E gli automobilisti Sono belli bastonati Esatto E ovviamente Ripartendo tutti Nelle prossime ore Per rifare il prossimo ponte Ripagherà Per questo noi stiamo qua Lunedì e martedì In diretta Esatto Per risparmiare Senza ponte Di benzina A tra poco Certo che ci si poteva Accontentare di tante cose Gli orologi non smart Le tv non 4K Ma anche no Non accontentarti Scegli Peugeot 308 L'auto che ha vinto 34 premi internazionali E fino al 29 aprile 308 top di gamma E tu a 199 euro al mese Con cambio automatico Cerchi lega da 18 Keyless System Inclusi 3 anni di garanzia E manutenzione Peugeot 308 DNA vincente Peugeot Con finanziamento iMove Tan 349 Tai 482 Salvo approvazione Banca PSA Italia Info su Peugeot.it Mortadella origine coppe In vaschetta da 150 grammi A soli 1,79 euro Da suini italiani E filiera controllata Si dice buona come il pane, no? Ecco, lei è buona Con il pane Mortadella coppe Buona e conveniente Come la vuoi tu Perché la coppe sei tu La solita sveglia Il solito tram Il solito tram tram Ma non è che sei tu Quello che fa sempre Le stesse cose L'avventura È la nostra routine Scopri Jeep Freedom Days Ad aprile Jeep Renegade Tua con Jeep Free A interessi zero Oggi paghi la metà Nessuna rata per due anni E poi sei libero Di restituirla Salvo approvazione FCA Bank Info e condizioni Su Jeep Official Fineco La banca numero uno In Europa Nel trading Vi presenta Borsa in diretta Giornata molto nervosa In Borsa in Europa Il quadro che prevale adesso È negativo fra tutti i listini In particolar modo Su quello francese Naturalmente scosso Dal nuovo atto terroristico Di ieri sera Ghisthians-Élysée Parigi meno 0,8% Infatti Ed è il tema peraltro Che stiamo affrontando Ad investire in formati Questa mattina Francoforte Molto più tranquilla Perde lo 0,10% Come Londra Meno 0,12% Molto nervosa però Nei giorni scorsi Dopo l'annuncia sorpresa Di Teresa May Di Indira Elezioni politiche Per l'8 giugno Milano A metà strada Meno 0,58% Sulle Fuzzi Miba Oggi Milano È sostenuta Dai titoli petroliferi In primo luogo Dopo i conti Saipem guadagna il 3,46% Tenaris più 1,74% Recupera un punto Mediaset In calo invece abbiamo Brembo Meno 2 Meno un punto e mezzo Per ricordati Salvatore Ferragamo Enel Fiat Chrysler E Moncler L'euro A 1,07% Sul dollaro Torniamo subito Con cuore Denari Ed investire Informati I 100 secondi Di Radio 24 Il sole 24 ore Le firme più autorevoli Del sole 24 ore Aprono le porte Al mondo Dell'attualità politica Ed economica Nel primo editoriale Crossmediale Di informazione Dal lunedì Al venerdì Alle 9 Alle 17 Su Radio 24 E su RDS E in video Su radio24.it E su rds.it Cara Ho appena portato La mia Volkswagen In un centro Volkswagen Service Per cambiare le gomme E non solo Mi hanno fatto un prezzo Davvero conveniente Ma mi hanno anche regalato Tre anni di assicurazione Per i pneumatici nuovi Ben tre Sarà la mia innata simpatia Sì O sarà che li regalano A tutti i loro clienti? Basta avere una Volkswagen Per accedere ai vantaggi Volkswagen Service Tutto l'anno Trovi tante promozioni A un prezzo Che non ti aspetti Scopri di più Su Volkswagen.it Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it Dove trovi I tuoi agenti di commercio? Ehi amico Se sei un'azienda E cerchi agenti Vai su agenti.it Rappresentanti E venditori Vendita Vai su agenti.it Agenti.it Donde trovi I tuoi agenti di commercio? Olè Sono Bruno Artisano della qualità E io Cosetta Lavoro nel negozio Poltrone Sofà di Modena Noi facciamo divani Su misura Per ogni esigenza Anche di portafoglio Questa settimana In Poltrone Sofà C'è il sottocosto Su oltre mille divani In pronta consegna Poltrone Sofà Questi informati Questa mattina Con Lorenzo Alfieri Capo delle attività italiane Di JP Morgan Asset Management E provo sempre a tradurre Un po' in italiano Le cariche Dei nostri profili E abbiamo fatto Un piccolo focus Sull'attesa del mercato Per le presidenziali francesi Avevamo promesso Adesso ai nostri ascoltatori Anche di andare Un po' a curiosare Sul tema Azionario europeo Nei confronti Del quale il mercato I colleghi Di Alfieri I loro compresi Sembrano essere Favorevoli Perché le società Godono parzialmente Di buona salute Almeno a giudicare Da quelle che stanno Rassegnando La trimestrale In questo periodo Anche il Fondo Monetario Internazionale Proprio Non disdegna L'andamento Appunto Del quadro economico Europeo Anche se è stretto Nella conflittualità Generata Da questa variabile Politica Che è molto Incerta Allora vogliamo Ritornare su questo punto Perché l'area euro È una buona area Chiaramente Facendo la dovuta Selezione Sulla quale Investire Alfieri Sì come dicevo Prima Ovviamente Nel 2016 L'Europa Gli Stati Uniti Hanno prevalso Chiaramente Con dati Macroeconomici Particolarmente Favorevoli Mentre dall'altra parte L'Europa Continuava Abbastanza Ad arrancare Nella prima parte Del 2017 Invece Gli indici Di riferimento Che sono quelli Ad esempio Sulla sorpresa Degli indicatori Economici Un livello Inflazionistico Leggermente Superiore Alle aspettative Che indica Evidentemente Un livello Di consumi Sicuramente Apprezzabili L'andamento Di alcuni Mercati Di riferimento Specifici Ad esempio Primo frattutto Le vendite Automobilistica La ripresa Delle edilizie In alcune aree Ad esempio La Germania Sono tutti stati Degli indicatori Che sono arrivati Contemporaneamente Già dall'inizio Dell'anno Parlo del 2017 Sorprendendo in positivo Gli analisti E gli investitori E dall'altra parte E dall'altra parte Non ci dimentichiamo Che abbiamo Un mercato Americano Azionario Che ormai Sui massimi Storici Da molti mesi Quindi Inevitabilmente Gli investitori Hanno riniziato A guardare Come dicevo Prima Un mercato Azionario Europeo Che è rimasto Indietro In termini Anche di Rapporti Prezzo utile Rispetto a Quello americano E quindi Inevitabilmente C'è stata Una maggiore Attenzione Ai mercati Azionari Europei In senso Allargato Tant'è che Uno dei mercati Che principalmente Ne ha beneficiato È stato Quello italiano Sia il mercato Di larghi Capitalizzazioni Italiano Ma anche Quello delle Cosiddette Small cap Allora Senta Visto che Ci ha precisato Che tutto sommato Il mercato Mostra Di aver appreso Le elezioni Dello scorso anno E quindi È un po' Meno intimorito Rispetto agli Appuntamenti Politici E dice Prepariamoci A tutti gli scenari Senza dover Necessariamente Poi affrontare Degli stravolgimenti Nel caso in cui Questi risultati Siano sorprendenti Però c'è L'altro grande tema Che invece Devono monitorare Con maggiore Attenzione Tra l'altro È la prima pagina Del sole 24 ore di oggi Banca Centrale europea La politica monetaria Tassi di interesse La consueta guerra Tra Falchi E Colombe E cioè la guerra Tra chi vorrebbe cominciare A stringere i cordoni Della borsa In maniera Un po' più rigida E chi invece Ritiene che ancora Bisogna essere Ultra espansivi In Europa Allora abbiamo già detto Mille volte Un po' di Come dire Restringimento Della politica monetaria C'è già stato Perché la banca Centrale europea Da che comprava Fino a marzo 80 miliardi Al mese Di obbligazioni Europee Tra titoli di Stato E obbligazioni societarie Adesso è ridotto A 60 Quindi molto gradualmente Le quantità di Vising Si va riducendo Però insomma Il dibattito Addirittura Adesso riprende A portarsi Su revisione Dei tassi di interesse È assolutamente Prematuro Ci sembra Però insomma Alfieri È uno scenario Che in realtà State considerando Un po' più Seriamente Rispetto alle relazioni Giornalistiche O no? No Diciamo che Al momento Lo scenario Il quadro generale In Europa È positivo Ma non così positivo Da far Pensare A un cambiamento Della politica monetaria Della BC Almeno per tutto Quest'anno E direi che I dati che stanno Scendo sull'inflazione Sono abbastanza evidenti L'inflazione Che era Salita molto Prepotentemente All'inizio del 2017 Sta iniziando Anche in Germania A scendere Sono evidentemente Segnali Di una ripresa O una ripresina Ma che Non può Autoalimentarsi Quindi è necessario Ancora Che la manovra Della politica Espansiva Di Draghi Rimanga Almeno per quest'anno Allora Intanto Io direi Che mi posso Anche portare Un po' avanti Con il quizettone Senti un po' Che domanda Stamattina Che ci siamo inventati Perché stavi Zitta zitto Ho detto Forse non lo fa Lo faccio Lo faccio Sentiamo Eppure un po' Un po' Bastardo Il domandone Di stamattina Però se l'ha inventato Marco Lombardo Non è colpa mia No vabbè E divertente E divertente Interessante E vi obbliga A studiare Come sempre Allora noi Qualche volta Quando raccontiamo Le giornate di borsa Raccontiamo Parigi fa più questo Londra fa più questo Qualche volta Mi sbizzarrisco Anche a raccontare I nomi degli indici A Londra c'è il Fuzzi 100 A Francoforte monitoriamo O il Dax 30 O il 100 A Parigi c'è il Cacarant Il Cac 40 Allora chiesto ai nostri ascoltatori Se ci vogliono raccontare A che cosa Che cosa identifica Questa sigla Cac E quindi devono andare a studiare È difficile Ma in realtà è difficile Ma si trova molto facilmente Guarda No ma sai Tra l'altro voglio anche Siccome io lo pronuncio In maniera veramente Imbarazzante Perché il francese Proprio non l'ho mai Neanche visto dipinto E un po' come l'inglese D'altronde Voglio anche sentire I nostri ascoltatori Come lo pronunciano Anche la giusta dizione Esattamente Tu come lo diresti Tu che il francese invece lo parli No non lo so Ma c'è Cacarant Hai visto brava Non lo so Alfieri Lei Provi lei Come è messo col francese Dai Prova Provi Cacarant Cacarant Eccolo Potrebbe essere il nome di un profumo anche Ma vedi un po' te guarda Secondo me con le note un po' muschiate Ma guarda Con tutte queste società del lusso Che sono quotate su questo listino Ce ne sono Ce ne sono No tra l'altro nei giorni scorsi Parlando proprio della borsa francese C'era Dottor Tobagi di Invesco A raccontarci un po' le attese Della borsa francese Io ero proprio non convinta Però ho sempre molto parlato Della borsa transalpina Come di quella in cui sono rappresentate Le società del lusso Società finanziarie I titoli automobilistici E invece ho detto Ma no ma guarda Forse ti piacciono un po' meno Ma in realtà per esempio Anche il mondo infrastrutturale Delle costruzioni È ben rappresentato E la borsa è andata bene Anche negli ultimi mesi Perché anche la Francia Beneficiava delle promesse Elettorali di Trump Ho fatto tutto questo volo pindarico Perché di trumpismo I signori di JP Morgan Hanno parlato Nel salone del risparmio Dove eravamo tutti quanti insieme La settimana scorsa E tra l'altro Alfieri Volevo proprio chiederle Come è andato Secondo la vostra Così secondo il vostro punto Di osservazione Molta vivacità Un'industria che torna Ad essere molto dinamica Nella presentazione di soluzioni Di investimento di vario tipo Per i risparmiatori Poi ci racconterà anche il trumpismo Insomma che cosa è emerso Dal vostro confronto Ma prima di tutto Un po' il clima Che si respirava al salone Cosa è successo Dal vostro punto di vista Sicuramente È un proseguo Di una fase Di forte crescita Di interesse Sempre maggiore Verso questa industria Che sta catalizzando Ovviamente E attraendo Risorse Da ormai Molti Molti anni Possiamo dire Molto interessante Ovviamente La crescita Anche Dei partecipanti E ad esempio Il numero Delle conferenze Oltre 100 Quindi Questo significa Che c'è una forte vitalità Una forte Necessità Di interazione Di confronto E di partecipazione Allora Il trumpismo È il tema Che avete affrontato Voi nella vostra Tavola rotonda Peraltro Magari Nei prossimi Due giorni Proprio in vista Delle elezioni francese Le iniziative di Trump Saranno un po' Oscurate Messe da parte A meno che non decida Di bombardare Qualcuno Che cosa è emesso Dal vostro dibattito Insomma Quanta generazione Preo Genera L'iniziativa Di Trump A vario livello Appunto Per le case Di investimento Ovviamente Il convegno Ha riguardato I primi cento giorni Di Trump Cosa è realmente Accaduto Ma abbiamo visto Che di fatto Sono stati più annunci E il futuro Cioè il prossimo Il futuro avvenire Di Trump E su questo Ovviamente L'attenzione Deriva dal fatto Che Come hai citato Tu all'inizio Trump Non ha sicuramente Le mani libere Per potersi muovere In modo agile Su tutte le riforme Che lui Avrebbe voluto Impostare E aveva presentato In campagna elettorale Quindi Il futuro Si preannuncia Con Uno Come viene definito Stop and go Cioè evidentemente Fughe in avanti Ma che saranno poi In parte bloccate La soluzione finale Il quadro finale Al momento Quindi è ancora Abbastanza incerto Bisognerà vedere Realmente Trump Quanto riuscirà A Riuscirà a fare Di quello che ha promesso Anche alla luce Di un Atteggiamento Contradditorio Da parte del congresso Verso le sue riforme E infatti Diciamo che anche Quelli che teoricamente Sono della sua parte Poi concretamente Qualche volta Non lo sono Come l'abbiamo visto Per la cancellazione Dell'Obamacare E mi sembra E mi sembra che Il listino azionario americano Sia lì a dimostrarlo Non ci dimentichiamo Che ormai da molte settimane Che è fermo Interlocutorio Dopo aver toccato Una marea di record Tra gennaio e febbraio Adesso E abbiamo visto Alche correzioni importanti Per esempio Nel segmento bancario Che era stato uno Dei settori Che era più salito Sull'attesa Proprio di una Forte riforma Anche nel Nel segmento Delle banche Quindi Prepariamoci Ripeto A una fase Molto laterale E interlocutoria Perché bisognerà Realmente capire Come Trump Potrà impostare La sua politica C'è il traffico Ci sentiamo tra poco Un saluto a tutti voi Alle porte di Milano Per un incidente Avvenuto in mattinata Che ha coinvolto Una cisterna Che si è ribaltata Perdendo gasolio Sulla carreggiata Resta chiusa Al traffico La Romonza Tra l'innesto Con la statale Milano-Meda E lo svincolo Di Fiera-Milano In direzione Ro In direzione Monza E chiusa Anche tra Fiera-Milano E Pero Chiuso Il cavalcavia Sulla 8 La Milano-Varese E proprio Sulla 8 La Milano-Varese Resta chiuso In entrata Lo svincolo Di Fiera-Milano In entrambe Le direzioni Cote per un incidente Da segnalare Sulla A4 La Torino-Trieste A cavallo Tra Lombardia E Veneto Disagi tra Sirmione E Pischiera In direzione Trieste Fine sul grande Raccordo anulare Di Roma Si viaggia In colonnati Per un incidente In via di risoluzione Tra lo svincolo Per la Casilina E quello Per l'Ardeatina In carreggiata Interna Per il momento è tutto Noi ci risentiamo Tra 30 minuti Mi richiamano All'ordine Allora il quizettone Di oggi Naturalmente Prende spunto All'appuntamento Politico Più atteso Delle ultime settimane Le presidenziali Francesi Di domenica E allora Prendendo a spunto Da questo Chiesto ai nostri ascoltatori In realtà Volevo chiedere Se sapessero Come si chiama L'estino francese Poi l'ho detto io Ovviamente Come al solito Svelo il mistero Ma non è tanto mistero Prima del tempo Il cacarante Però insomma Vorrei che ricercaste Che cosa identifica Questa sigla Vedo già Molti ascoltatori Che subito Vogliono i nostri libri E l'80024 0024 Adesso Li sentiremo Soprattutto Per dare a noi Qualche utile Lezione di francese Data La incapacità Che ho io Di pronunciare Correttamente Questo nome Con noi invece Questa mattina Per investire in formati Lorenzo Alfieri Country Head Per l'Italia Di JP Morgan Asset Management Alfieri Ho letto che Lei ritiene In qualche sua intervista Appunto Rilasciata proprio In questi giorni In occasione Del Salone Che ritornerà La volatilità Sui mercati Nei prossimi mesi Anzi sarà particolarmente Accentuata In particolar modo Nella seconda parte Dell'anno Come mai Deciso di Leggere la sfera di cristallo In questo modo Ma adesso A parte tutto Quali sono i segnali Che vi dicono Che ci potrebbe essere Un certo nervosismo Nella seconda parte Dell'anno E come ci dobbiamo preparare Soprattutto come Piccoli risparmiatori A questa Evenienza Ma innanzitutto Ricordiamo Che stiamo Partendo Oggi come oggi Da un livello Di volatilità Storicamente Estremamente Bassa Come dicevo Prima La prima parte Dell'anno Ci sono una serie Di temi Che sicuramente Torneranno Prepotentemente Alla ribalta Innanzitutto La crescita E soprattutto In aree Come gli Stati Uniti Bisogna vedere La consistenza Della crescita Che ora c'è In Europa Anche in Giappone Alcune inquietudini Sulla potenziale Crescita in Cina Secondo fattore L'inflazione Che oggi Sembra montare Ma con il calo Del prezzo Del petrolio Che si è ridimensionato Bisogna vedere Se effettivamente Questa inflazione Che è un sintomo Ricordiamoci Della crescita Del consumo Ritorna ad essere Invece A dei livelli Insoddisfacenti Come lo è stato Nel 2015 E nel 2016 Trump Come dicevo prima Grossi punti interrogativi Sulla tenuta Della sua politica In termini Ovviamente Di realizzabilità Di quei progetti Che aveva presentato In campagna elettorale E poi Ahimè Il permanere Di alcuni problemi Geopolitici Che stanno venendo Al pettine Proprio Già In questa Parte Diciamo Prima parte Del Primo semestre Scusate Seconda parte Del primo semestre Quindi Tutti questi fattori Probabilmente Nella seconda parte Dell'anno Messi insieme Potranno riportare Maggiore volatilità Maggiore incertezza Sui listini Anche perché E concludo Non ci dimentichiamo Che gran parte Dei listini Quello americano Quello tedesco Sono già I massimi storici Quindi ovviamente Mantenere Un livello Così alto È Molto difficile La soluzione Chiaramente E concludo Dicendo La soluzione È che Purtroppo Il mercato È diventato Molto tecnico Bisogna ovviamente Affidarsi Ai professionisti Che facciano selezione Trovare adesso Titoli azionari Interessanti E che vadano a caccia Appunto Di rendimenti Che è l'altro Grande oggetto Appunto Della ricerca Un po' Di tutti Sicuramente Delle opportunità Di investimento Ci sono Magari i rendimenti Non sono più generosi Come in altre fasi Più favorevoli Del mercato E leggo Di nuovo Anche in riviste Specializzate Anche queste Un po' Considerazioni sentite Al Salone del Risparmio Che per affrontare Queste particolari Fasi del mercato Gli operatori Del risparmio Suggeriscono Le soluzioni A cedola E quindi Insomma Remunerazioni costanti Delle portafoglie Ma dove le troviamo Queste opportunità Il mercato È così ricco Alfieri Dove ci sono Sono più generose Le aziende O i paesi Perché se guardiamo Il BTP Insomma Non è che siamo Proprio Ma potrei dire Che ci sono Sono generosi Sia le aziende Che i paesi Come però Dicevo poco Poco fa È più difficile È diventato Molto più difficile Trovarlo Quindi Il fai da te È assolutamente Da evitare Però invece In generale Si possono trovare Interessante opportunità In termini di rendimento Su tutti i mercati Anche quello americano Anche quello europeo Ma Anche ultimamente Sui mercati azionari emergenti Giusto Una breve nota Le aziende Dei paesi emergenti Sono quelle Che in termini Di distribuzione Di dividendo Sono diventate Le più generose Negli ultimi anni Non quelle del Venezuela Magari In queste ultime ore Perché non è il caso Giustamente Però andare a trovare Queste aziende Nei mercati emergenti Lasciamolo fare I professionisti Esattamente Si trovano Interessanti cedole Anche nel mercato Degli cosiddetti High yield Cioè I titoli Emessi Da aziende Ad alto rendimento Ma se c'è Un alto rendimento Ricordiamoci Vuol dire Che c'è anche Un alto rischio E quindi Di nuovo È un settore Un segmento Che può essere avvicinato Ma mi raccomando Facciamolo fare I professionisti E concludo Ricordando Che anche I titoli Emessi Da paesi Emergenti Hanno delle cedole Interessanti Ma anche questo Ovviamente È un compito Da lasciar fare I professionisti Ma i vostri Prodotti di investimento Che puntano Sulle aree emergenti Su quali aree emergenti In particolar modo Puntano Guarda come te l'ho girato Ma in questo momento Per esempio È interessante In termini azionari Per esempio Il mercato cinese Quello brasiliano Quello russo Quello Dell'est Europa Per dire che Non si può parlare Dei mercati emergenti In senso assoluto Bisogna essere Molto selettivi C'è ogni storia Ogni paese È una sua storia E quindi Bisogna Andarla a scovare Certo Allora Alfieri Abbiamo parlato Di trumpismo Prima Delle questioni Economico-politiche Americane Delle iniziative Di trump Di quanto A volte Queste Possono Turbare il mercato E abbiamo visto Che effettivamente Un po' Le sue iniziative Delle ultime settimane Hanno generato Questo stop Ai record Del mercato azionario Statunitense Wall Street Si è fermata E però Sul tema dollaro Forse vale la pena Fare un piccolo focus E ce lo chiede Un ascoltatore Se vale ancora la pena Investire Nel biglietto verde Che è stato forte Qualche volta L'ho detto anche lui Al Wall Street Journal La settimana scorsa Ha detto E purtroppo Il dollaro è troppo forte È colpa mia Perché il mercato Punta su di me Sempre con il Insomma Con la consueta modestia Che lo contraddistingue Detto questo Insomma Un conto È investire in valute Prendere le precauzioni Un conto È investire nel dollaro Che invece è considerato Una divisa Rifugio Il punto di vista Il punto di riferimento Insomma Per tutti Qual è la sua view Come si dice In questo caso Noi pensiamo Che in questo momento Il dollaro Venga da una fase Di concreto Stabile Ed importante rialzo Soprattutto rispetto All'euro È una fase quindi Che non ci sorprende Stia portando A un'interlocuzione Di fatto Il dollaro Rispetto all'euro Non si sta più muovendo Se la situazione Ripeto Rimane come Quella attuale E quindi Non intervengono Fattori straordinari Probabilmente Il dollaro Non avrà Molto spazio Ecco C'è da dire E non dimentichiamo Come dicevo prima E citavo prima Ci sono sul tavolo Alcuni Purtroppo alcuni Eventi geopolitici Imprevedibili E su questo Ovviamente potrebbe giocare Un rafforzamento Temporaneo del dollaro Come valuta Rifugio Però se tutto questo Non avviene In questo momento Il dollaro Secondo noi Rimane ben valutato Ben prezzato E quindi Non può dar luogo A una forte rivalutazione Giancarlo da Bologna Buongiorno Grazie Per essersi Candidato Per la risposta Al nostro Quizzettone Allora Mi faccio fare Con un accento romagnolo Con un accento romagnolo Che piace sempre Esatto Sempre una garanzia Giancarlo Un po' come il francese Che è molto elegante Per noi invece Il più gettonato È romagnolo Sono del paese Di Alberto Forchielli Che va molto In titulo Sì In titulo In titulo In titulo Insomma Gettonatissimo Giancarlo Allora ci dica un po' Ci dia questa lezione Di francese E ci dica Il listino Allora Questo CAC 40 Si dica Cotation Assisté En continuo Voilà Arriva l'applauso Naturalmente Per Giancarlo L'applauso Per Giancarlo La pronuncia perfetta Anche Alfieri Rimasto Esterrefatti Siamo bravi Fatto all'estero Fatto all'estero E ha fatto all'estero Senta Ma lei è appassionato Di mercati finanziari Oppure così È andato su Wikipedia Andata a vedere No no Decisamente Li seguo quasi tutti i giorni Ottimo Sparmiucci Bravo Ha una domanda Per Lorenzo Alfieri Oppure voleva solo rispondere Al quiz E parlare con noi Ma domande in campo Ci sono sempre State un po' rispondendo Io sono molto interessato All'area dollaro Continuo a sperare Che possa arrivare Alla parità Ma giustamente Fluttua Tra 1.05 E 1.08 Ormai da tempo E l'effetto Trump Non si capisce bene Ma guarda tu Giancarlo La domanda che mi farei è Quest'anno Il famoso detto all'inglese May sell and go away Sell in May and go away Giancarlo Si verificherà Allora faremo subito Una puntata fra un mese Con Lorenzo Alfieri E con gli altri Suoi interlocutori Ci dobbiamo preparare A questo consueto scenario Che fa parte molto Della letteratura finanziaria Che non sempre Si concretizza Alfieri Purtroppo solo 10 secondi Ma no Le premesse non ci sono E' chiaro che se Dove esserci Un ulteriore rally Da qua a maggio Probabilmente poi a maggio Ci potrebbe essere una correzione E noi ci saremo C'è Giancarlo C'è il tema Da affrontare al più presto Grazie Grazie Alfieri A presto Buon investire informati a tutti Noi torniamo lunedì Ci siamo Niente ponte Buona giornata a tutti